Forza Ciancone Italia! Guangzhou, Cina, Canton Fair, 119esima edizione. E nel complesso espositivo alle mie spalle, che con oltre 1.100.000 m2 coperti e oltre 400.000 m2 scoperti, è il più grande dell'Asia, che va in scena due volte l'anno da oltre 50 anni, il Canton Fair, la più importante fiera di elettronica di consumo della Cina. Guangzhou, Cina, Canton Fair, una delle fiere di elettronica di consumo più importanti del mondo. Chang Gong la vive da protagonista. Chang Gong U-Max 8K, un gigante da 98 pollici, alla fantastica risoluzione di 8K, ovvero 8 volte la risoluzione di un Full HD, in grado di trasformare qualsiasi ambiente domestico, la vostra casa, in un vero e proprio cinema. Iniziamo la carrellata delle novità parlando di un prodotto molto particolare. È un televisore 4K, quindi Ultra HD, dotato di dual chip, ovvero due processori, uno dedicato alle funzioni smart del televisore e l'altro dedicato alle funzioni normali. Questo permette di avere una fruibilità dei contenuti multimediali, molto più semplice, immediata e veloce. Da non trascurare l'ergonomico telecomando a comando vocale, molto bello, semplice da utilizzare. Spazio 1999, l'ultima frontiera. Canton Fair 2016, l'ultima frontiera della tecnologia, televisori OLED 4K, l'ultima frontiera tecnologica made by Chang'ong. Scendiamo un attimo nei dettagli e spieghiamo perché i televisori OLED sono così importanti. Sono importanti perché la qualità dell'immagine è elevatissima. L'OLED, a differenza del LED, è una piccola celletta che si illumina, dotata di luce propria, quindi è in grado di riprodurre dei neri molto profondi, molto ricchi e dei colori molto dettagliati. Altro particolare da non trascurare è il fatto che i televisori OLED sono molto sottili. In pochi millimetri si riesce ad avere una grande qualità video. Il fatto che siano curvi permettono di avere un maggior coinvolgimento all'interno dell'ambiente domestico. Da non dimenticare il telecomando semplificato, a comando vocale, in grado di comandare le principali funzioni del televisore. Naturalmente in dotazione c'è anche un telecomando completo, in grado di comandare tutte le funzioni smart e tutte le funzionalità del televisore. Un esempio nella cura dei dettagli dei prodotti Chang'ong. La parte posteriore del televisore è in texture color legno. Per un televisore bello da vedere da ogni punto di vista. Una rapida carrellata della produzione di televisori Chang'ong. Si parte dai 19 pollici per arrivare ai 65 pollici. Televisori LED, di LED, nelle varie configurazioni. Quasi tutti disponibili con ricevitore satellitare on board, per rendere fruibili tutti i contenuti mondiali di televisione. Molti dei televisori sono dotati di funzionalità smart, ovvero interconnessi alla rete tramite wifi. Una parte importante è 4K, che cresce sempre di più la parte di televisori a risoluzione 4K. Come questo esempio che abbiamo davanti a noi, che è l'ultimo nato. Televisore a marco chic, quindi la parte più evoluta dei prodotti Chang'ong, interconnesso ad internet, dotato di uno schermo curvo, molto coinvolgente di grandi dimensioni, per trasformare ogni ambiente domestico in un vero e proprio città. Il cuore pulsante di ogni frigorifero è il compressore. Questo piccolo oggetto, praticamente nascosto all'interno di ogni frigorifero, è quello in grado di creare il freddo del frigorifero, creando una bassa temperatura, avendo un basso consumo energetico, dando la massima efficienza al prodotto. Pochi sanno che Chang'ong è il leader mondiale nella produzione di compressori, tramite le sue fabbriche, con il marchio UAE. Una di queste fabbriche è dislocata a Barcellona, in Spagna, e fornisce compressori alla gran parte di produttori blasonati di frigorifero. Una piccola domanda per l'unico UAE manager. Perché i UAE e i Xang'ong compressori sono così buoni per il mercato? Come sai, il UAE è il numero uno del mondo di fabbriche di fabbriche. Abbiamo servito i migliori compressori con tecnologie avanzate, e noi stiamo cercando di aiutare il futuro, aiutare tutti i nostri vivono una buona vita di salute. Grazie. Grazie. Chang'ong produce un'ampia gamma di frigoriferi, dai piccoli 45 litri per arrivare ai quattro porte, per arrivare ai grandi chic connessi ad internet e con un display touchscreen con sistema operativo Android. Questo permette a Chang'ong di soddisfare ogni esigenza, dalla più piccola alla più grande. Oggetto di design sicuramente molto particolare, l'unico frigorifero disponibile sul mercato con il frontale in vetro, disponibile in otto colori assortiti, da colori lucido, come il nero in questo caso, ai colori pastello, complemento ideale delle case di design. Ampia anche la gamma di condizionatori, dai più piccoli portatili, molto efficienti, ai più evoluti connessi ad internet. Alcune caratteristiche comuni, basso consumo energetico, solo mezzo watt quando sono in standby, preciso controllo della temperatura, e per i modelli più evoluti interazione con la rete per poter controllare a distanza la temperatura e il grado di umidità. In alcuni modelli, una telecamera controlla l'ambiente per stabilire la temperatura ideale. Entriamo adesso nello spazio Chic. Chic è il marchio d'elite di Chang'ong, il marchio che identifica i prodotti tecnologicamente più avanzati, connessi ad internet, interconnessi, IoT. Il condizionatore domestico, dotato di una telecamera, la potete vedere, che è in grado di fare una scansione dell'ambiente e stabilire quanta gente c'è, di conseguenza regolare la temperatura, oppure seguire le persone all'interno della stanza e modificare la direzione dell'area in funzione della posizione delle persone. Il televisore, sempre al centro dell'ambiente, anche lui connesso ad internet, dotato di funzioni smart e una barra su round per poter percepire a fondo la qualità dell'audio e dei contenuti multimediali. Il frigorifero, anche lui connesso ad internet, dotato di un display con funzionalità Android, in grado di capire all'interno del frigorifero quali prodotti ci sono e la loro data di scadenza. Sempre nell'angolo chic, siamo con Lulu che ci spiegherà brevemente le funzioni di questo nuovo interessantissimo oggetto. Potevi spiegare dove è la funzione di questi uniti? Sì, ovviamente. Questo è non solo un banco di potenza, ma anche un'attività. Può essere usato per connessi con il telefono mobile. Quindi con questo può trasmettere il Wi-Fi quindi il nostro mobile può ricevere il Wi-Fi da questo. E anche i nostri video in il nostro mobile possono essere usati in questo piccolo. E è anche portabile, è designato per le donne, soprattutto per le donne. Penso che è davvero funzionale. È tutto. Grazie. Ha detto che questo non è semplicemente un power bank, come sembra, ovvero un supporto di alimentazione per i telefoni cellulari, ma è anche un trasmettitore Wi-Fi, un hard disk portatile collegato Wi-Fi al telefono o qualsiasi altro device. È anche dotato di funzioni quick charge, quindi è in grado di caricare rapidamente i telefoni dell'ultima generazione. Quindi è un compagno ideale per tutti coloro che sono continuamente in movimento. Ancora una volta un'innovazione chic. Volete trasformare la vostra casa in un cinema? In uno stadio? Molto semplice. Basta utilizzare il videoproiettore Chic Cinema 100. Videoproiettore compatto porto raggio che grazie alla sua lampada laser è in grado di riprodurre con efficacia uno schermo fino a 100 pollici. Grazie a tutti.